e ciao a tutti allora ci facciamo un bambini va che va bene il più bello i capelli li tengo sono bello la faccia ovviamente mi metto quella da cicamale ecco questa i vestiti da cicamale così dai così ci sto bentornati oggi proveremo un po' di cose un po' di segreti allora ragazzi allora se voi scrivete in chat a foc scrivo io vi farà volare ormai lo sanno quasi tutti vi farà volare ma sì alleluia salate per invitare una bambina a coglioni poi poi se scrivete alleluia vabbè mi vestiti pure se scrivete wolf ci farà ballare come la breakdance mi fai guarda vengo da sola vengo da sola perché sono bella è dietro ah sì scusa dietro vero ecco poi se scrive poi se scrive poi se scrive lol così tutto grande questo dov'è fare il cielo qua è creato a casa di merda what lol oh my god 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 vedete lol lol no sì lol e vedete vi farà così vabbè questo è anche in chat chissà solo poi ci sono anche altri segreti oh vabbè 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 jade jade allora principe principe princess princess allora ragazzi vediamo i segreti allora se non sbaglio era qui un segreto si era qua allora come ho detto andate qua che sta sul gelatoio vabbè qua sul parrucchiere sul parrucchiere dietro c'era questa scala allora andiamo qua e apriamo questa porta ne metto qua più alta perché se no le porte non si aprono ok andate qui e ci sarà questa cosa che è qua niente questo è un segreto è il primo segreto vabbè si ma vai vabbè poi qua e poi qua possiamo andare sopra di tutto niente questo è il primo segreto allora il secondo segreto chissà ah si sull'aereo 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 allora prendiamo ovviamente le valigie se no che ci vuole fare non è morto allora andiamo qua corriamo a questo perché va lento ma andiamo qua dentro poi cliccate questo para questo e se lo clicca e se lo cliccate vi cadrete dal cielo e para cadute ci sarà che bello vabbè comunque allora dove dovevo andare allora adesso il prossimo segreto è nell'ospedale qui qua si vede si vede oh si vede o non si vede addio no no ho sbagliato adesso allora qua all'ospedale poi altri segreti non so sono non li so allora se andiamo qua alleluia allora andiamo qua in queste cose giochi e vabbè qua questo non è un segreto questo affitto allora qua ci sarà un buchino un bucone un buscio del culo mentre ora ci sarà un tipo un ospedale abbandonato bellissimo che è la sciringa la sciringa sci vabbè e niente se volete uscire non potete andare là perché sennò ci vuole troppo tempo ad andare all'ospedale quindi uscite da qui e non c'ho con che e non c'ho con che fisica ma passiamo ma passiamo dal muro così eccoci è fico infatti io non me ne sono mai accorta di sto buco di sto buscio del culo niente poi poi i miei segreti che cazzo io so i miei segreti non li so ragazzi ah no poi c'è un altro scritto si mamma perché dove eri perché dove eri no si beh mamma tre secondi veramente tre secondi allora aspetta raga tra poco devo andare a farlo non sul clean il cleaners ovviamente cleaners allora qua se cliccate la lampadina non è qui ci sarà questo posto io ormai ho fatto che mi ha chiuso che mi ha chiuso vabbè ci siamo aperto e siamo quasi chiusi ok se andiamo qua su questo buscio dove va il bagno allora poi poi andiamo poi andiamo qua scusate andiamo qua andiamo qua si porterà la banca pigliamo una bomba la bomba e niente andiamo qua ecco ecco chiuso il bagno ma ciao bello adesso la banca io mostro dove è dalla cartina per aprire il coso alla banca non è acqua e non c'è niente tutti qua è normale ma se noi andiamo qua c'è una carta la carta la carta questa carta verde che sta per aprire questo quindi niente ragazzi questi sono tutti i segreti che so veramente sono tutti i segreti che ho questi che ho che ho che so poi niente poi vedremo anche altri segreti solo che adesso devo andare devo andare a fare il bagno e ci vediamo e alleluia quindi ci vediamo alla parte giù esce se ci sarà e ciao ciao sono tanchino un po' un po' Grazie a tutti.